Torniamo ad occuparci di Salvatore, il piccolo paziente affetto da una sindrome di Down e che purtroppo ha la leucemia, che però adesso ha intrapreso un viaggio non della speranza, noi vorremmo sia della certezza, perché sarà ricoverato al bambino Gesù dove subirà un trapianto del midollo. Ha vissuto anche quest'anno il suo compleanno qui, il 10 agosto praticamente, e quindi nell'ambito del reparto è stata effettuata una festa. Al piccolo Salvatore, 9 anni affetto da sindrome di Down, nel 2016 è stata diagnosticata una leucemia linfopastica acuta. Il 10 agosto è stato l'ultimo compleanno al reparto di Oncologia ed Ematologia del Policlinico Van Vitelli, di cui resta anche a distanza la Mascot. Direzione Bambin Gesù di Roma, per vincere l'ultima battaglia fatta di terapia cellulare e trapianto di midollo osseo, ha salutato con il sorriso il suo prof, Silverio Perrotta, e l'intera famiglia dei sanitari insieme ai piccoli guerrieri del reparto. Un percorso tortuoso, quello del piccolo Sasi, dopo che la malattia sembrava volgersi al meglio, una recidiva lo ha portato all'iter chemioterapico, un problema respiratorio al ricovero al cotugno, proprio dopo l'ultimo paziente Covid dimesso. Una rete di eccellenza sanitaria che ha permesso, dopo le ultime analisi al Policlinico Van Vitelli, il trasferimento a Roma, il donatore di midollo e suo fratello, poco più che 12enne, Sasi, ha la forza di un adulto. È un bambino eccezionale, praticamente si fa voler bene da tutti, tant'è vero che molti dei colleghi, anche i stessi colleghi del cotugno che l'hanno avuto in cura, continuano a chiamarlo per sapere come procede, come va, proprio perché si crea un legame affettivo. E so che praticamente si sta facendo conoscere anche a Roma per questo suo, diciamo, come dire, aspetto caratteriale. Il piccolo Salvatore ha iniziato le terapie, i genitori che hanno da un anno accolto in famiglia anche il terzo figlio, sono in contatto continuo con il Policlinico. È grande l'affetto che lega a voi, il piccolo Salvatore, a tutto lo staff della Van Vitelli, la sua famiglia qui. Il dottore infermieri della Van Vitelli. Qual è il messaggio che vuole dare a tutti i genitori come lei che affrontano questa battaglia insieme ai loro figli? Di non mollare, perché loro sono più forti di noi genitori, credimi. No.